amici del calcio elite buonasera dal campo roma centro sportivo romulea oggi per la dodicesima giornata di serie a la montagnola ospita l'atletico smistamento un saluto da marco reda con la cico bandella traversone il cross col mancino pallone che colpisce la traversa incredibile sembrava essere aver preso la direzione del fondo non è finita però l'azione della montagnola prova ad andare in dribbling tarquini fermato da d'ambrosio è un faldo laterale gabrielli bravo però d'ambrosio a tenerlo non farlo scappare sull'out di destra però la rimessa con le mani adesso la montagnola con roscioli il cross in mezzo di tarquini pallone respinto ancora in faldo laterale dalla difesa pallone lungo per guidi contro papalia lo stop di guidi si gira guidi e trova un gran gol per l'uno a zero montagnola gaston gli viene incontro frasca attaccato da recchioni perde il pallone panichi attenzione a guidi scodella sulla destra per l'inserimento di tarquini il tocco sotto e pallone fuori di pochissimo coffa per cosmai sale la montagnola con cosmai sull'out di destra tarquini si fa vedere guidi viene però fermato attenzione alla montagnola che continua ad insistere tarquini grande azione tarquini se ne va da solo tarquini 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 col destro un gol straordinario di tarquini 2 a 0 cosmai può andare anche al tiro lo fa col sinistro la parata in due tempi di arlati buono spunto calcio di punizione battuto colpo di testa ad allontanare di gabrielli dribbling di frasca attaccato da ruggeri frasca conclusione col sinistro da fuori di de sandoli pallone alto sopra la traversa la respinta della difesa giallo blu chiude tutto stavolta però d'apice che evita il contropiede intervento deciso regolare su boccoli contropiede nastasi può andare all'uno contro uno con arlati nastasi nastasi da solo la respinta di arlati poi allontana in fallo laterale porcarelli attraversione però è lungo sul secondo palo colpo di testa poi il salvataggio sulla linea poi la botta da dentro l'area di castagna pallone alle stelle da castagna da cruz viene spintonato il numero 25 che tiene il possesso del pallone serve nastasi seguito da minerva nastasi si butta dentro da cruz cambio gioco per il solissimo ruggeri lo stop di ruggeri va andare anche al tiro ruggeri ci pensa va col mancino pallone che finisce largamente alla destra di arlati ma non c'è più tempo arriva il triplice fischio dell'arbitro montagnola batte atletico smistamento 2 a 0